Si è svolta sabato 6 marzo la penultima lezione dei laboratori sonoro musicali per bambini e genitori proposta innovativa targata a filarmonica di Belluno che vede coinvolti i piccoli già nella fascia d'età 0-3 anni. Il progetto riguarda appunto quello che è un avvicinamento al mondo della musica per i bambini in questa fascia d'età e in particolare per la coppia genitore-bambino. Non ha lo scopo di insegnare la musica bensì di immergere in quello che è il mondo dei suoni e stimolare così sia dal punto di vista cognitivo che affettivo i bambini che sono molto ricettivi a tutte le stimolazioni in questa fascia d'età. Molteplici benefici. Per i bambini sono sicuramente quello di poter stare in un ambiente sereno insieme al genitore e condividere dei momenti di tranquillità e di condivisione dal punto di vista emotivo. Dal punto di vista della crescita cognitiva sicuramente la sperimentazione dal punto di vista sia motorio che soprattutto anche della fisiologia vocale e lo troviamo particolarmente importante in un periodo come questo in cui l'adulto ha sempre una mascherina addosso. Per cui gran parte anche dei movimenti buccali sono coperti. Ecco, in una realtà come questa invece la sonorità la fa da padrona e quindi il bambino trova una stimolazione forte per quello che è lo sviluppo delle sue facoltà. Quello che cerchiamo di fare è attraverso l'uso di uno strumentario specifico far sperimentare la musica, soprattutto far godere di una musica autentica. Noi sfruttiamo anche della musica suonata da noi, quindi dalla filarmonica di Belluno. L'iniziativa di carattere ludico laboratoriale nata in tempo di pandemia è una delle tante progettualità promosse dall'associazione bellunese Amici della Banda. Da sempre impegnata sul territorio per la diffusione dell'educazione musicale, il proseguo del progetto dipenderà da quanto previsto dalle normative Covid.